Non mi raccomano Aspetta! Aspetta! bravo, la roba è una durmatura, sennò non si spazia sennò ti si spazia, guarda qui vai, vai, vai e lo stucco, come andrà? e cose delle carrozziere guarda qui il resto queste vedi che dà una gomma dove vedi la torta? grazie guardate qui guardate qui le dà la moreno un po' questa è sorpresa Questa è la resina che fanno le carrozzine. La vedo la risina. Come andate? Che mi mantiene delle ferme che non si muove. Un'altra cosa è. Questa è più bella del mio. Facci la foto dentro. Ci la vede a piccolo. No, questo, qui là. No, no, è chielo. Come andate? Aspetta, rispettate. Due. Passi il piego. Passi la foto. N´i dici. Quattro, 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 quattro. Quattro, quattro, quattro. Quattro, 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 quattro. Poi. Tutti. Grazie a 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 tutti. a tutti. a tutti. a tutti.